E sono in compagnia di Paolo che gestisce proprio questo piccolo village a Ragnari nel quartiere di Toreangela che è pizzeria, bar pasticceria, ristorante, ma da qualche mese anche abbiamo questo magnifico parco giochi Paolo. Come ti è venuta l'idea di arricchirlo proprio con un baby parking? Qui a Toreangela mancava un parco giochi per i bambini all'aperto dove potevano festeggiare anche il loro compleanno in tutta sicurezza e abbiamo pensato di fare questo parco apposta per loro. Quindi tutti i bambini della zona possono prenotare i compleanni, vedo che ci sono due postazioni, quindi due compleanni anche insieme? Sì, abbiamo fatto due boss apposta per due compleanni insieme, per un massimo di 30-35 bambini, non di più. Allora, tu sei conosciutissimo nella zona, nel quartiere qui di Toreangela perché la pizza è ottima, fai degli eventi sempre molto carini. Da che cosa deriva questo successo? Dalla semplicità, dalla cortesia, insomma noi siamo anche delle persone molto umili, insomma si adattiamo ai tempi che corrono, insomma con una qualità, prezzo, è importante quello insomma. Io ho mangiato qua da te ma si mangia anche a ottimi primi. Sì, è vero, noi facciamo ristorazione, pizzeria, carne, pesce, se la sera ci volete venire a trovare, noi siamo qui a disposizione. E poi tu hai una cameriera formidabile che si chiama Roberta, che è alta così ma è una peperina e devo dire è molto molto efficiente. Sì, è mia figlia, sì che si cimenta facendo la cameriera, è brava. Facendo già la capezza. Sì, farà il futuro della Ragneri. E siamo sempre qui da Ragneri, sono in compagnia di Roberta, abbiamo già parlato di te che sei una cameriera veramente efficiente Roberta. Complimenti, ma quanti anni hai? Dieci. Dieci. Allora vogliamo fare un saluto ai nostri telespettatori? Ciao a tutti, vi aspettiamo. E' un saluto ai nostri telespettatori? E' un saluto ai nostri telespettatori? E' un saluto ai nostri telespettatori? Eccomi in compagnia delle ragazze, lo staff di Ragneri, Linda e Roberta. Voi avete un arduo compito perché qui è un via vai di persone. Linda, allora, di che cosa ti occupi tu? Io mi occupo ai tavoli, al banco, un po' di cocktail, happy hour, facciamo un po' di tutto. Qui i clienti sono benvenuti, li aspettiamo sempre, è un piacere pure di servire. Pizzeria, pizzeria, banco, cassa e un po' di tutto. Voi avete anche comunque uno staff valido perché avete degli orari pazzeschi, siete aperti quasi 24 ore su 24. Le 5 a mezzanotte l'una, dipende dall'esigenza dei clienti. In questa fascia di orari abbiamo tre turni dove abbiamo uno staff molto efficiente. Ecco perché è partito dalla mattina presto con dei colazioni, avete il laboratorio in sede per la pasticceria. Sì, noi prepariamo prima le colazioni alla mattina, all'ora di pranzo alla tavola calda, self service. E poi il pomeriggio aperitivi e la sera ristorante, pizzeria e quant'altro insomma. E poi si può ascoltare della buona musica, fai sempre eventi di cabaret, musica. E quindi ovviamente mi raccomando, se siete nella zona, nel quartiere di Torre Angela e non solo, ovviamente vedendo questo video su di te, venite sicuramente perché Paolo con la sua piccola villa a Giornieri è molto valido. Ok, vi aspettiamo numerosi, grazie.